L'emocrobo è l'insieme di esami che esplorano le cellule del sangue. Cominciamo con i primi, cioè i leucociti. Sono un indice dello stato di infiammazione. Un aumento dei leucociti oltre 10.000 è un indice che c'è un processo infiammatorio. Quando sono molto aumentati, 30.000-40.000, si può sospettare la presenza della leuceria. Vanno considerando anche la diminuzione dei leucociti al di sotto dei 4.000 e qui c'è evidentemente un'insufficienza del bidollo, le cosiddette mielodisplasia.